I Fantastici Cerchi nel Grano del 2023 Segni e messaggi dal cielo alla terra Salve amici, sarò a Roma il 3 dicembre 2023 per parlare di uno dei segni più importanti che ci vengono dagli esseri celesti segni che ci annunciano un grande cambio che ci ammoniscono ma anche ci consigliano su quello che dobbiamo fare, su come ci dobbiamo comportare e soprattutto su cosa ci dobbiamo aspettare nel prossimo futuro prima che la grande promessa della seconda venuta del Cristo si manifesti in questo mondo in questo incontro spiegherò il significato dei simboli che sono contenuti nei più bei cerchi nel grano apparsi nella stagione 2023 nei campi inglesi segni che ci annunciano appunto un cambio enorme un cambio meraviglioso nella storia dell'umanità quindi non solo violenza, non solo sangue, non solo guerra in questo tempo ma anche segni e messaggi meravigliosi che gli esseri celesti e il mondo divino ci mandano parleremo di tutto questo, parleremo anche e mostreremo i più bei avvistamenti di quest'anno dove la parte del leone la gioca ancora una volta il messicano Juanito Juan venite a questo incontro, sarà molto interessante tra l'altro parto tra pochi giorni in Messico andrò a incontrare Juanito Juan non solo Juanito Juan, sarò anche a Città del Messico alla seconda udienza pubblica che ci sarà la Camera dei Deputati Messicani e quindi in questo incontro del 3 dicembre 2023 parleremo anche delle novità che vedremo e che registreremo lì in Messico vi aspetto tutti a Roma a partire dalle ore 9.30 non mancate, per tutte le info le trovate in descrizione al video e come sempre nei miei social grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti